Non ricordo da quanti anni si sente parlare di destagionalizzazione delle attività turistiche. I ricordi si perdono nella notte dei tempi. Ogni anno e ad ogni scadenza elettorale il refrain prosegue inarrestabile, quasi una presa in giro per l'economia e per quei lavoratori che occupati per cochi mesi all'anno sono costretti a emigrare. L'altro ieri a Chiavari è stato firmato, primo in Italia, un accordo in grado di allungare la stagione turistica. Regione, organizzazioni sindacali, comprese quelle di categoria, hanno dato un colpo d'ala all'economia del Tiguglio, annunciando che gli alberghi rimarranno aperti tutto l'anno, creeranno occupazione più lunga e sicura. Destagionalizzazione e stabilizzazione dei rapporti di lavoro daranno impulso per cercare nuove correnti turistiche, puntando anche al blocco della concorrenza sleale, identificata negli affitti di case in nero, locazione di camere in case private. Poi rimane la guerra della tassa di soggiorno, la tassa che, oltre alle proteste, fa parlare di sé in modo singolare. In Varsusa, la Guardia di Finanza ha denunciato un buon numero di albergatori perché incassavano la tassa di soggiorno dai clienti e non la versavano alle casse comunali. Si parla in pochi giorni di oltre 300 mila euro. Su 40 alberghi controllati dalle fiamme gialle, 30 sono risultati non in regola. Come sempre, fatta la legge, trovato l'inganno.